Viva Pennisi, Viva Luigi, Viva Luigi, Viva Luigi, Viva Luigi, Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone e terra e polvere che tira vento e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo con le scarpette di gomma dura, dodici anni e il cuore pieno di paura. Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore, un giocatore e lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai i giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno peso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da dieci anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Nino capi fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'area fino senza guardare ed il portiere lo fece passare. Anni non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Anni non aver paura di tirare un calcio. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla